Caterpillar Respubblica è perché è un po' un concetto di cosa comune, cioè tutto quello che facciamo è una cosa che appartiene a noi quattro, quattro musicisti che si incontrano sulla strada del blues, che hanno quattro diversi background, quattro modi diversi di suonare e di vedere la musica e che insieme riescono poi a tirar fuori un linguaggio comune, che è appunto quello che ha fatto poi nascere Caterpillar. Caterpillar è il nostro primo disco di inediti dove all'interno raccontiamo dieci storie diverse che vengono dal nostro vissuto quotidiano e grazie alla musica, grazie all'amicizia, grazie al nostro modo di sentire il blues queste storie le facciamo diventare metafora e le raccontiamo. Questo disco nasce, non dico per caso, ma ci stavamo già lavorando da tempo e abbiamo deciso di, dopo aver inciso il primo di cover, quindi le nostre rivisitazioni di brani blues, dei classici del blues, abbiamo deciso di scrivere qualcosa che fosse nostro e fosse l'insieme di tutte le nostre esperienze accumulato in questi anni, quindi abbiamo costruito in studio, mentre stavamo registrando il brano, abbiamo deciso di costruirlo proprio come si fa con le case, mattone su mattone, pezzo per pezzo, qualche volta l'abbiamo cambiato in corso d'opera perché cambiavano gli eventi, perché succedeva qualcosa che ci faceva non cambiare idea ma rivedere con occhi diversi quello che stavamo descrivendo nel disco. E quindi è nato per necessità, necessità di voler comunicare quello che non ci sta più bene, quello che ci colpisce negativamente e positivamente per gli eventi che succedono e che purtroppo non sono sempre positivi. Caterpillar significa distruzione, ma distruzione delle cose che non vanno e quindi noi ci illudiamo e speriamo che grazie alla musica si possa costruire qualcosa di positivo. Non è proprio blues questo disco, ha mille sfaccettature, altri colori che vengono dalle nostre esperienze personali, ognuno di noi viene anche da altre esperienze molto diverse, devo dire. C'è chi come me viene anche dal jeep jazz, dal rock, dal pop, chi viene dal blues tradizionale, chi dal funk, chi dall'hip hop, da tutto. Siamo riusciti a racchiudere tutto quello che siamo in un disco, direi che per un musicista è il massimo. L'album è stato prodotto dalla Meladiodessa Produzioni, etichetta indipendente rappresentata in conferenza stampa da Christian Miccoli. Ci sono due dei quattro elementi della band Respubblica, sono uno di Mino Leonetti e di Matera, Toni Miolla e di Pisticci, mentre Gidio Stigliano e Antonio Finamore sono Policoresi. La Meladiodessa oggi presenta la prima produzione della nostra associazione perché grazie a Respubblica, la collaborazione ormai da sempre con i nostri amici musicisti della Respubblica, abbiamo deciso di produrre un loro disco bellissimo, Caterpillar, un disco blues, rock molto forte, con dieci brani inediti, completamente tutti in italiano, quindi molto particolare anche per il panorama musicale blues italiano, quindi una bellissima produzione e per noi una nuova esperienza, un'esperienza che viene dal management, dal booking artistico che da anni facciamo parallelamente al nostro festival, per i locali, i club e i festival nazionali. Da questo momento la Meladiodessa ha iniziato a produrre, quindi ci siamo testati con i nostri amici Respubblica e abbiamo iniziato a fare questa nuova avventura.